Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La quinta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale presieduta da Nicolò Lotti ieri ha esaminato il ricorso presentato dal Teramo Calcio e ha accolto l'istanza di abbreviazione dei termini e ha fissato per l'effetto la Camera di Consiglio del 25 agosto per l'esame della domanda cautelare legata ai Ciaccia. Tutto ciò cosa significa? Che il Teramo ha avuto la conferma che non era affatto scontata che il 25 agosto si discuterà davanti al Consiglio di Stato la cautelare collegiale e il collegio valuterà anche la sussistenza del Fumus Boniuris e dunque seppur sommariamente la fondatezza del ricorso. È chiaro che tutto si deciderà con l'udienza cautelare se riammettere il Teramo in serie C o in subordine in serie D in soprannumero. Poi si dovrà trattare il merito ma passeranno mesi se non anni. Il destino del club si discuterà insieme a quello del Campobasso con cui condivide anche i legali l'avvocato Cesare Di Cintio e Federica Ferrari. La decisione dei giudici dovrebbe essere comunicata nella stessa giornata del 25 agosto. Intanto oggi si riunirà la commissione di esperti nominata dal sindaco Gianguido Dalberto e presieduta dall'avvocato Giovanni Gebbia per valutare la fattibilità dei piani della nuova società appena nata per rilanciare il calcio teramano, la SSD Città di Teramo, legata all'imprenditore romano Lorenzo Ponsuoli. Il parere definitivo dovrebbe arrivare entro i primi giorni della prossima settimana. A quel punto, dopo il parere positivo del sindaco di Teramo, l'ultima parola per l'iscrizione della nuova realtà ai campionati dilettantistici spetterà la FIGC. E' chiaro che il giudizio della FIGC sulla neonata società non ci sarà prima dell'esito all'udienza del Consiglio di Stato dell'attuale società che avrebbe comunque precedenza rispetto alla società sportiva dilettantistica Città di Teramo.